A me giocare online piace e ho semplicemente deciso di ignorare i pregiudizi maschilisti e ho percorso la mia strada. Diciamo che all'inizio questa mia passione la consideravo una passione privata. Le cose sono cambiate quando sono stata intervistata da una nota rivista. Sia le mie amiche che anche la mia famiglia hanno iniziato ad apprezzare e a rispettare la mia passione. L'unica cosa che davvero conta è l'impegno, la perseveranza e appunto il credere in se stessi. Io ho fatto cambiare opinione nel mondo del gaming. Win3 farà cambiare opinione sulla sua rete. Io ho fatto cambiare opinione sulla sua rete.